ok now we are live also in facebook ok buonasera a tutti buonasera a tutti io sono giuseppe girlando il country manager della vix in italy benvenuti eh questa sera abbiamo una puntata speciale abbiamo un incontro speciale con due persone speciali abbiamo il primo crown ambassador del dell'europa mister l'aslo coccio e il primo crown ambassador del del medio oriente del galfa che mister fatemi gani sono due leader ma oltre a essere due leader sono due coach sono due abili formatori quindi questa sera veramente c'è tanto da imparare dalle loro domande e dalle loro risposte adesso è con grande privilegio che introduco mister l'aslo coccio che vedete qui in diretta da voi che inizierà appunto con la sua serie di domande al nostro ospite di questa sera che mister fatemi gani grazie e buona puntata a tutti buongiorno a tutti i'm i'm really happy because my old friend is here mister gani from uae so good morning mister gani how are you good morning i'm doing great buongiorno a tutti sono l'aslo sono molto contento perché stasera abbiamo qui con noi il mio vecchio amico degli amirati arabi fatemi gani e come stai tutto bene grazie ci siamo già incontrati tantissime volte in giro per il mondo durante i vari eventi ci siamo visti quindi tantissimo però ci sono ancora delle cose che non so su di te quindi colgo quest'occasione per farti delle domande così ti posso conoscerci ti possiamo conoscere tutti meglio quindi la mia prima domanda è quando perché e come hai iniziato il tuo business con la Dixon quindi ti chiedo di raccontarci la tua storia per questo evento why and how it's going to take me one hour do you have one hour for this for this webinar allora per raccontarvi il mio quando perché e come ho bisogno di almeno un'ora quindi non so se avete tutto questo tempo per ascoltarmi no worry about it you have time you have time ok first the when I started in 2003 quindi per risponderti al quando ho iniziato nel 2003 and why I had my own health issue the problem which I was suffering from almost 10 years with the stomach I was trying to get some natural cure I was already taking a lot of medicine so it was my health issue which brought me inside the exam quindi principalmente ho iniziato perché io avevo dei miei problemi personali di salute erano già dieci anni che avevo problemi allo stomaco prendevo tante medicine e volevo trovare una soluzione alternativa di medicina naturale and it took me almost one and a half two years to come out of my health issue but alhamdulillah I'm so so thankful to God and to DXN Dr. Lim that such wonderful product has given me the benefit within a couple of months to a year e quindi in realtà per curare di questi problemi ci ho messo un anno e mezzo due anni però sono molto contenta e sono molto grato a Dio e a DXN e a Dr. Lim perché Dr. Lim ha creato questi prodotti meravigliosi che mi hanno dato tanti benefici perché in realtà già dopo pochi mesi ho iniziato a verificare i benefici di questi prodotti so health is very very important and the health benefit I got and the other part which was the wealth part I looked into it I was studying about this beautiful industry called network marketing from 2000 so when I saw that this company has got this also that's how I started my DXN journey as far as the business is concerned quindi la salute è molto importante ma è importante anche il benessere economico io in realtà dal anno 2000 che stavo cercando un'opportunità studiavo l'industria del network marketing quando ho trovato la DXN ho iniziato a provare i prodotti ho notato i benefici ho dato un'altra occhiata a questa azienda ho scoperto che hanno un'opportunità fantastica e così ho iniziato il mio viaggio con la DXN as far as my job was concerned when I started DXN it was very good I used to train pilots how to fly the aircraft salary was good but still I was in a job and in job you can be fired anytime quando ho iniziato la DXN per ciò che riguarda il mio lavoro originale io in realtà guadagnavo bene sull'ingegnere mi occupavo degli aerei avevo un ottimo lavoro però sai quando sei comunque dipendente puoi essere licenziato anche dall'oggi al domani e quindi stavo studiando cercando un'opportunità e ho trovato un libro La rivoluzione del nuovo benessere e questo ancora prima di conoscere la DXN so I would very strongly recommend everyone who would like to know about this health and wellness industry and about this direct selling industry should read this book io consiglio questo libro andate a cercarlo se vi interessa l'industria del benessere della vendita diretta può essere una lettura importante in that book the wellness revolution or wellness industry this person said that it's going to be a trillion dollar industry so that's a very big industry e questo libro mi ha fatto capire che la rivoluzione dell'industria dell'area del benessere in realtà si tratta di un tipo di business che ci può portare a guadagnare milioni e milioni ci può portare veramente ad arritirci and this wellness product this person said that should be distributed directly to the consumers and the members il libro consigliava che i prodotti di benessere secondo il libro questi prodotti dovrebbero essere consigliati personalmente alle persone e venduti tramite la vendita diretta in this very interesting point that he mentioned that who is going to make money and who had been making money before so there are four categories e questo libro poi ha parlato di quattro categorie di persone che potranno fare tanti soldi con l'industria del benessere so the first category was manufacturer who is having big factories and companies il primo sono quelli che producono i produttori di questi prodotti second was consultants like doctors and surgeons and lawyers they would be making money e secondo quelli che faranno le consulenze ad esempio i medici avvocati le persone che si occupano di questi prodotti and the third was the retailers would make money e poi il terzo sono in la categoria di retailer della rivendita della vendita a dettaglio e poi ha parlato della quarta categoria che a partire dagli anni 2000 faranno tanti soldi nell'industria del benessere e loro sono i distributori e chi l'avrebbe detto che proprio il signor Bezos sarebbe diventato la persona più ricca in questa industria e lui semplicemente ha scritto e venduto questo libro noi stiamo facendo una cosa ancora più importante noi stiamo portando salute e benessere alle persone e quando ho capito questa cosa ho iniziato ho deciso di buttarmi e ho iniziato a studiare a leggere di più riguardo a questa industria quindi io stavo facendo il mio lavoro nell'aeronautica militare ma stavo cercando comunque un'opportunità di business da costruire ho iniziato alcune attività ma non ho raggiunto il successo in nessuno di queste quindi nel 2003 io conosco trovo questi prodotti della Dixen inizio a consumarli e mi trovo molto bene e godo dei benefici della mia salute poi studio il piano della Dixen capisco che non ci sono rischi non devo investire tanti soldi poi sempre nel 2003 incontro personalmente dottor Lim e decido di partire con il business e quindi per me è stato un momento molto importante quando nel 2003 ho conosciuto personalmente dottor Lim ad Abu Dhabi durante un evento e dopo l'evento gli ho chiesto dottor Lim dimmi come posso raggiungere il successo e mi fa guarda ci sono tre cose che devi capire e fare number one you have to become a product of the product use and see the benefit of the product that was his point number one primo devi diventare il prodotto del prodotto cosa voglio dire devi usare tu devi capire i prodotti so I told him I'm already product of product I joined Dixen because of the product and I've seen the benefit in the last nine months a questo punto gli ho risposto guarda in questo punto ci siamo già perché io sono già un prodotto del prodotto perché mi sono iscritto per i prodotti e negli ultimi nove mesi ho potuto verificare i benefici the second point was don't look right and don't look left when you are into the business and can you imagine the Dixen song which is just made last year or two years back he said it to me in 2003 focus in your business don't look here and don't look there and you'll become successful seconda cosa non devi guardare né a destra né a sinistra quando stai facendo la tua attività se vi ricordate questa è entrata anche nella canzone della Dixen canzone che è nata tipo due anni fa ma dottor Lim già nel 2003 mi disse questa cosa e me lo ricordo bene devi essere concentrato il tuo focus deve essere sulla tua attività non guardare a destra a sinistra and the third point was the whosoever is joining in your team where there are six people or ten people make them successful when you make them successful you will become successful poi la terza cosa qui un che si iscrive sotto di te anche se sono magari solo sei persone magari sono dieci persone non importa tu concentrati ad aiutare queste persone a raggiungere il successo se loro raggiungono il successo lo farai anche tu so 2004 so 2004 i started this was january and by the end of 2005 i became the first crown diamond of the middle east and at that time i decided that i'm going to quit the job in two years time and alhamdulillah thanks god in 2007 i got my freedom a quel punto ho deciso in due anni lascio il mio lavoro e nel 2007 sono diventato un uomo libero so this network marketing business and this DXN business like me it has given freedom to a lot of people and i'm sure Laszlo you are one of them so that is the long and the short of my story thank you so much it was really interesting so now i know you was free before i joined the dates because i joined the dates in 2008 yeah grazie è stato molto interessante ascoltare la tua storia perché adesso so che tu quando io mi sono iscritto nel 2008 tu eri già un uomo libero a lot of people ask me what is the happiest day of your life when you become a crown ambassador i said no crown ambassador is later when i got my freedom in 2007 when i become my boss in my own business molte persone mi chiedono ma qual è stato il momento più felice della tua vita quando sei diventato crown ambassador e io rispondo no il momento quello viene dopo perché il momento più felice è stato quando ho conquistato la mia libertà quando ho detto addio al mio capo quello è stato il momento più felice la mia seconda domanda è qual è il segreto del tuo successo laslo there is no secret there are few things which is needed in success whether it is in dxn whether it is in life whether it is a job anything this thing which i'm going to tell you there are many many factors but there are few factors which is very very important guarda Lasdo non ci sono segreti non ci sono segreti particolari semplicemente ci sono alcune cose che tu devi fare per raggiungere quello che vuoi sia nella dxn che nella vita di tutti i giorni o in qualsiasi lavoro ci sono alcune cose su cui ti devi concentrare la cosa più importante per raggiungere il successo è la disciplina ovunque ti trovi se vuoi andare lontano la disciplina ti deve caratterizzare fino al 100% so i was brought up in a family where my dad you know inculcated that thing right when i was very small that this is what is very important in life to be disciplined and the job that i started in the pakistan air force you know in any military you have to be very disciplined to go up so my job also taught me how to be disciplined e sai anche il mio lavoro nell'avviazione mi ha insegnato l'importanza della disciplina anche lì dovevamo essere tutti molto disciplinati the second important point in success is perseverance that you need to do and do it till you get the result that perseverance follow up persistency consistency these are very very important factor in the success and there is a very famous saying that winners never quit and quitters never win c'è un detto che dice che i vincitori non lasciano mai chi lascia non vince mai now since i had been an aerospace engineer i had no background in network marketing or health science and nutristical so i had to study so learning is a very important part of the success too l'altra cosa molto importante per il successo è studiare sai quando io ho iniziato io ero un ingegnere nel mondo dell'aviazione non sapevo nulla del network marketing ho dovuto studiare so there were a lot of people who already were talking about the product as a doctor as a naturopath but i thought that in business you have to study network marketing direct selling e c'erano tante persone che conoscendo già il prodotto come dottori come medici o naturopati già parlavano dei prodotti io invece ho pensato di concentrarmi proprio sull'industria del network marketing e studiare questi aspetti quindi mi sono iscritto all'università a los angeles si trova all'università networking times ho studiato in questa università per quattro anni and then i joined another university called mlmu run by hilton johnson and that was in 2007 where i got the network marketing business coaching one year course i did e poi ho continuato i miei studi mi sono iscritta ad un'altra università mlmu questo nel 2007 e sempre nel 2007 ho completato il corso per diventare coach nel ambito del network marketing così ho anche questo diploma so i kept on studying and i'm still studying about this industry beautiful industry of network marketing so you need to learn and whatever you learn you apply quindi ho studiato tanto e continuo a studiare anche adesso sto studiando le cose che riguardano questa bellissima industria che il network marketing quindi ti dico devi studiare e poi quello che hai studiato lo devi mettere anche in pratica so at that time there was no social media and when I met you Laszlo and your secret was this social media thing and now it is the need of the hour now my study is around only social media quando avete capito che quando ho iniziato io i social media non esistevano ancora ricordo bene quando ho conosciuto Laszlo e lui parlava del suo metodo di come lavorava con i social media io non vengo da quel mondo oggi però però oggi tutto il mio lavoro è sui social media quindi vi dico che questa è una cosa importante quindi brevemente sono queste le cose che mi hanno portato dove sono oggi thank you thank you it was really useful I'm sure so my third question is a little bit lightly so what is your favorite DXM product grazie per i tuoi consigli sono stati molto utili la mia prossima domanda è un pochino più leggera qual è il tuo prodotto preferito della DXM? of course those supplements which help me which is Rishi Spirulina and Morenzi they are right there for my my own health and wellness but my favorite is my cortisip coffee ci sono tutti integratori che mi piacciono come i resh la spirulina tutti quanti però personalmente il mio prodotto preferito è il caffè con cortisip yeah I really like too I drink every day cortisip coffee I used to drink you know lindji 3 in 1 but now when cortisip came I said this is it gives you the real taste yeah 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 anche a me anche a me lardzo piace tantissimo lo bevo tutti i giorni sì è vero prima preferivo il lengthy coffee 3 in 1 poi hanno lanciato il cortisip coffee e questo è il gusto che veramente mi piace especially now in the covid time you need to have a strong lungs so 4, 5, 6, 8 cortisip and then then cortisip coffee will give you the strength the immune boosting and making your lungs strong so we are having enjoyment plus protection from all kinds of viruses sapete soprattutto adesso nei tempi del coronavirus è molto importante avere i polmoni forti il cordiceps ci aiuta ad avere i polmoni forti quindi possiamo prendere 4, 5, 6 cordiceps al giorno in più beviamo anche il caffè con il cordiceps e ci rendiamo veramente forti resistenti ok thank you so my first question is you know we really want to know is how working the successful network builder life so how does your every day go la mia quarta domanda è una curiosità perché tutti vorremmo sapere cosa fa una persona di successo durante il giorno quindi cosa fai durante il giorno come si svolgono le tue giornate di lavoro this question is connected with your question number two discipline questa domanda mi porta indietro alla seconda la risposta è disciplina you see one is a hard work and the other one is a very smart work questo è un lavoro duro ma anche un lavoro intelligente so your my day work is divided into four parts e il lavoro di giorno ha quattro parti lo posso dividere in quattro zone number one is called income generating activities e la prima parte sono le attività che mi aiutano ad avere il guadagno il guadagno where I'm talking to the new people I'm putting whatever post in Facebook getting connection communication all that is the income generating activities quindi questa attività che mi generano il guadagno cosa sono parlo con persone nuove con i nuovi candidati scrivo post per Facebook tutto quello che mi aiuta ad aumentare il mio reddito so these people that I'm connecting in the end I would like to convert them into becoming a consumer or a member where they get they buy the product they get the PV and I get the income through their whatever they are buy IGA income generating activities e cosa voglio io cosa voglio raggiungere durante questa attività vorrei che queste persone diventassero i miei clienti che consumassero dei prodotti o che diventassero dei business builder così loro hanno il prodotto io i PV oppure diventano business builder anche loro so this is about 50% of my time e questo è circa il 50% del mio tempo since it's almost 18 years my team is very big all around so 30% of my time is team building and support so this is extremely important because those 20 lines that I have not all of them are very strong questo è molto importante perché se quelle 20 linee che ho non tutte queste linee sono forti so those weak lines I have to make sure that they are also getting to the point where they become just not a star diamond but a double diamond or a triple diamond quindi mi concentro molto sulle linee più deboli perché per me è importante che raggiungano non soltanto il livello di star diamond ma anche double diamond triple diamond eccetera e la terza cosa che faccio a cui dedico molto tempo durante le mie giornate e la crescita personale cosa intendo studio leggo libri ascolto podcast faccio tutte le cose che poi mi aiutano a svolgere meglio la prima attività cioè quello che mi aiuta ad avere il reddito più alto and the fourth part of course is equally important but I try to you know give it to somebody else to do it which is called admin work administration is taken e la quarta parte del mio lavoro è quello che cerco di delegare se posso ma comunque è importante è il lavoro amministrativo like email and follow up with the people those who are facebook who are commenting follow up with all of them so all this admin work takes a little bit of time too quindi questo lavoro di amministratore dei lavori di amministrazione sono ad esempio rispondere alle mail scrivere le mail dare seguito ad alcune conversazioni cioè fare il follow up stare su facebook leggere i commenti rispondere ai commenti questo è il lavoro amministrativo so my suggestion to most of the people who are watching this live webinar try to focus more in the income generating and when you have a big team even if it is 100 then start building your team supporting them that's where 80% of your activities should be quindi il mio consiglio per le persone che mi stanno ascoltando è quello di focalizzarsi sulle attività che ci generano il reddito quindi fai le cose che ti portano a guadagnare più soldi poi costruisci una squadra molto grande e quando hai una squadra grande dai supporto a queste persone where the time is being sucked is this thing where we are on it not giving any IGA so what is happening is you are into the youtube or the facebook or whatever is happening and whatsapp you are wasting your time if it is not giving you the pv and the income you are wasting your time oggi siamo tutti appiccicati ai nostri smartphone passiamo molto tempo sui social media su youtube facebook whatsapp però dobbiamo tenere presente che questi strumenti dobbiamo usare per il nostro lavoro per guadagnare i soldi e non perdere del tempo quindi se stai su queste piattaforme ma la tua attività non ti genera del pv non ti genera il guadagno devi cambiare qualcosa e poi un'altra cosa che ho notato è che le persone parlano molto della formazione tutti a fare formazione su formazione su formazione ma tutta questa formazione ci ruba il tempo che potremmo dedicare anche al lavoro quindi io non vedo vera attività perché vedo solo formazione quindi come dicevo prima è molto importante studiare non sto dicendo che non sia importante ma quello che hai studiato se hai studiato qualcosa devi subito andare ad applicarlo nella vita devi subito fare quindi ricapitolando due sono le cose fondamentali il primo è generare il reddito è molto importante concentrarsi su questa attività che ci portano i soldi e poi il secondo è team building costruire una squadra una rete thank you thank you you are right you are absolutely right so my next question is as I know you live in two different countries six months in Vancouver Canada and other six months in Duguay UAE so what is the difference between these two markets before I answer your question freedom in job I was to getting one month in one year now I get six months holiday in Vancouver and I'm doing the work and six months I come over here and then I do the job so that is the most important thing about this DXN business la cosa più importante è la libertà no prima quando lavoravo come impiegato avevo un mese di vacanza all'anno adesso faccio sei mesi di vacanza a Vancouver lavorando poi faccio sei mesi di vacanza a Dubai lavorando Canada and Europe and now I'm talking to the Italian people we are very similar Canada and Europe adesso sto parlando ai membri italiani sono molto simili il Canada e l'Europa Canada is a consumer market is all people almost I would say 90 plus percent people they are using our products il Canada è principalmente un mercato di consumatori potrei dire che più del 90% ma almeno il 90% degli iscritti sono qui per il prodotto whereas Dubai is a consumer market but more is on the network and the business mentre a Dubai com'è il mercato a Dubai anche lì ci sono tantissimi consumatori ma più business builder si parla più del network marketing there are more than 200 country nationalities working in Dubai a Dubai possiamo trovare persone da più di 200 paesi and when I go in my e-world and I check I have got my business in more than 200 countries e quindi quando vado apro la mia rete su e-world e vado a controllare vedo che ho iscritti da più di 200 nazionalità diverse so that is the power of our DXN business with this one world one market you can be in Milan or you can be in Rome and still build your business to at least 70 countries where we have offices so right now with this covid when from Asia from Wuhan or China then started moving it came to Europe in Italy first and then it moved to other places so all those who are listening if you are taking the product you become a product to the product and I assure you you will get good health but as well you will get good money from this business quindi vi volevo dire una cosa che adesso in questa situazione del covid questo coronavirus che è partito dall'Asia dal Wuhan in Cina ha colpito poi l'Europa ha colpito per primo l'Italia però se voi consumate i prodotti della DXN diventerete prodotti dei prodotti questi prodotti vi daranno quindi non soltanto buona salute e resistenza ma vi faranno anche guadagnare so there are a lot of people who need our product so you go out to people and try to help them it is not business now it is helping those people who are badly in need of our product that is one and the other thing like Canada Italy has got a lot of people who are age 70 80 90 they are the people you know who are more susceptible to this problem so if you give it to them their immune system will be boosted quindi in questo momento ci sono tantissime persone che hanno bisogno dei nostri prodotti e noi dobbiamo andare a parlare con le persone ed offrire il nostro aiuto sto parlando di aiuto non di business in questo momento moltissime persone avrebbero bisogno dei nostri prodotti per essere più forti per avere un sistema immunitario molto forte come in Canada anche in Italia ci sono tantissime persone che hanno più di 70 80 90 anni loro sono le persone particolarmente a rischio con il coronavirus e noi dobbiamo offrire il nostro aiuto a queste persone italiane people I've been to Italy at least three times you are very you know very social people you are a family people you are the you know hardcore networking people basically conosco gli italiani un po perché sono stato in Italia tre volte so che gli italiani sono persone molto socievoli amano molto la famiglia e sono dei grandi lavoratori so you should be you know reaching out to the people with the same network that you are in instead of having the normal party you have this type of or party and I assure you you are going to help the people help yourself and help your country quindi voi che siete così dovete organizzare degli incontri magari non in persona in questo momento ma con la vostra passione come siete socievoli dovete andare a parlare con le persone ed offrire il vostro aiuto il vostro paese vi ringrazierà oggi vi posso dire che il futuro è con voi in questo momento ci sono tantissime persone che hanno bisogno di noi perché molte persone stanno perdendo la propria salute ma anche il lavoro e noi possiamo intervenire in entrambe queste aree sia nella salute che nel lavoro possiamo offrire una possibilità e così possiamo aiutare il nostro paese e perché no tutto il mondo ok all right thank you so now you are on the top you are absolutely free so what is your next goal tu hai già raggiunto la cima sei una persona completamente libera quali sono quali il tuo prossimo obiettivo you see I never consider myself right on the top I'm still you know enjoying what I'm doing right now ok sai io non mi considero mai in cima di aver raggiunto il top io mi diverto tantissimo con quello che sto facendo whatever I have got now in last 18 years this is a time for payback how much I can give to the others ho raggiunto tantissimo in questi 18 anni e adesso è arrivato l'ora di dare qualcosa agli altri I'm fortunate I'm a crown ambassador that you work hard you become crown ambassador that's for sure sono una persona fortunata sono un crown ambassador ma ho lavorato tantissimo ho fatto un lavoro durissimo per raggiungere questa qualifica but then the success comes from the people who are in your team who become successful ma poi in realtà il successo viene dalle persone che raggiungono il successo nella tua rete I have five crown ambassadors in my team nella mia squadra ci sono cinque crown ambassadors so when I see those people achieving that status of crown diamond or crown ambassador it is like just like a father and the children's relationship when the children becomes bigger then you feel very happy very happy but that is you know not all the lines there are other lines which are struggling ma questo non è vero per tutte le mie linee ci sono delle linee che stanno facendo fatica so my goal in the coming two to three years who are just a diamond at least they should become a triple diamond and earn four to five thousand dollars per month that's my target for them quindi cosa voglio fare io su cosa mi voglio concentrare nei prossimi due tre anni in questi due tre anni mio obiettivo è aiutare coloro che sono star diamond in questo momento a diventare almeno triple diamond e a guadagnare almeno quattro cinque mila dollari al mese anybody getting four to five thousand dollars per month he has got or she has got financial freedom e chiunque in questo business chiunque raggiunga quattro cinque mila dollari al mese è una persona che ha conquistato la libertà finanziaria e poi c'è un'altra un'altra attività molto importante per me che faccio con molta passione voglio aiutare le donne sapete soprattutto in asia ed in africa ci sono molte donne che fanno fatica ad essere indipendenti ad avere la libertà finanziaria e io voglio aiutare queste donne quindi cosa voglio fare favorire l'impresa femminile so in 2005 when I became a crown diamond in Dubai that was the time an idea came in my map in my mind about map your freedom my map your freedom was born in 2005 quando nel 2005 sono diventato crown diamond è nato nella mia testa questa cosa map your freedom la mappa per la tua libertà da allora mi sono concentrato molto su questa mappa it was just a website very early stage website and then I started building it and building it and finally it turned into a book in 2013 questo all'inizio era semplicemente un sito web un sito molto rudimentale molto semplice ma poi ci ho lavorato tantissimo e nel 2010 è nato un libro I have traveled to a lot of countries almost 46 countries DXN countries in the world all over except for Australia and I've taught over 150.000 people in my conference webinars workshops all kinds and it has helped them a lot I always give the example of the aircraft the aircraft that we have all right the captain is you the people who are supporting the aircraft is the staff and the cargo inside the aircraft is the DXN product io faccio sempre l'esempio dei aeromobili tu sei il capitano e hai la tua squadra che è la staff e il carburante e il carburante sono i prodotti della DXN ma tu con questo tuo aereo vuoi andare dal punto A al punto B e come ci arrivi ci arrivi con questo aereo e cos'è questo aereo in realtà sono le tue capacità di fare rete di network marketing abbiamo dei prodotti fantastici e secondo me su 10 milioni di iscritti 9 milioni si sono iscritti per i prodotti io sono una di queste persone ma per avere successo per fare business devi studiare devi imparare delle cose devi avere le capacità per fare network ed è questo che io voglio fare nei prossimi anni insegnare a mezzo milione o milioni di persone a fare network e a trovare i benefici di questa industria e questo è il motivo di cui ho questo YouTube channel proprio come tu Laszlo la mia brand è Map Your Freedom c'è un sito c'è un libro c'è un YouTube e nel YouTube c'è due video ogni settimana proprio per questo ragione che ho aperto un canale su YouTube proprio come te Laszlo anche io ho il mio canale perché voglio arrivare a molte persone voglio insegnare e carico due video alla settimana il mio brand è questo come vi dicevo prima il Map Your Freedom il logo della DXN che parla di salute benessere economico e felicità sono temi che tratto anch'io parlo anche di crescita personale ma l'80% di quello che faccio è insegnamento su network marketing so in the end I can say that DXN is a beautiful journey you touch the lives of thousands and hundreds of thousands of people maybe sometime you know them directly sometime you don't know directly but your contribution should be such that you should be changing lives globally per concludere vi posso dire che la DXN è un viaggio bellissimo perché entri nella vita di centinaia di migliaia di persone magari conosci queste persone personalmente magari non le conosci però lasci insieme la loro vita questa è una cosa bellissima e io voglio cambiare noi abbiamo il potere di cambiare la vita delle persone and you become a millionaire by making the big difference in the lives of others in the area of health wealth and make them happy and you are a rich man diventerai milionario semplicemente facendo la differenza aiutando le persone a trovare la salute il benessere economico e la felicità diventerai un uomo ricco it's not this crown ambassador pin it's not the bonus that you are getting this where you get the blessing of the people the respect of the people is not measurable in kinds or in money non è questa qualifica di crown ambassador non è il mio bonus ma è la benedizione che ricevo dalle persone il rispetto che ricevo dalle persone che è una cosa incredibile e non ha prezzo thank you so much you're most welcome thank you so much your valuable time and we learn a lot tonight from you so it was amazing thank you so much and see you soon in Sunday in the online event in Latin America yes I thank you for calling me for this interview and I thank Palma for doing the translation grazie fatemi per il tuo tempo prezioso abbiamo imparato molto da te e ci vediamo ci vediamo domenica in un altro webinar grazie Lanslo grazie a Dixon per avermi invitato grazie anche a Palma per la traduzione you're welcome you're welcome you're welcome all right Aslo thank you so much mister Fatemi Ghani and I really appreciate your interview and really we are now in a journey the journey is the most important part of our life I agree hyperlip hyperlip io ringrazio tutti i partecipanti abbiamo avuto tantissime persone che si sono collegate è stato veramente un start of the night international perché abbiamo avuto tanti contatti dal Perù dal Medio Oriente dall'Africa e dall'Europa quindi è stato veramente un evento internazionale e questa è stata la seconda puntata abbiamo avuto un conduttore d'eccezione che è stato l'Aslo Coccio e un ospite veramente illustre come mister lasciatemi ricordare che sono anche due abili scrittori perché l'Aslo Coccio ha fatto un libro che sono le dieci cose che dovete sapere sull'MLM e invece mister Ghani autore del libro Map Your Freedom che è veramente un qualche cosa che due libri che non devono mancare nella vostra biblioteca nella vostra libreria io ringrazio ancora tutti quanti in particolare ringrazio Susanna Palma che è veramente impagabile per la sua traduzione è veramente molto brava ricordo a tutti che è ungherese quindi per lei diciamo che è anche una difficoltà in più tradurre tre lingue quindi grazie Susanna sempre per la tua disponibilità quindi appuntamento alla prossima puntata al prossimo al prossimo la start of the night e scopriremo insieme chi sarà il prossimo ospite del nostro Laszlo Coach buonanotte a tutti thank you so much thank you thank you bye 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 have a blessed day bye bye bye